Raffaella Bellotta arriva in Senato il decreto sul rientro dei capitali all'estero. Qual è la posizione della Liga Nord? Innanzitutto farei una premessa. Il nome rientro dei capitali all'estero in realtà maschera un decreto che non ha assolutamente più questa sostanza. L'articolo 1 infatti è stato stralciato alla Camera proprio nell'evidenziare l'inefficienza e l'incapacità del Governo di produrre un articolato capace di dare effetti concreti ed efficaci. Quindi la Camera l'ha stralciato ed è arrivato un provvedimento con i soli due articoli rimanenti e di conseguenza diciamo così menomato di quella che era la sostanza iniziale. La Liga si asterrà, si asterrà semplicemente perché alla Camera sono stati comunque, è stato anzi un emendamento importante per il Veneto, è stato recepito in particolare per gli alluvionati e per coloro che hanno subito un dissesto comunque notevole nel periodo invernale dovuto a abbondanti nevicate, blackout, disagi e quindi una difficoltà economica e territoriale importante. A questo punto la Lega si asterrà proprio perché c'è questa attenzione sicuramente non dovuta da una società di governo ma bensì dalla forza che la Lega alla Camera ha voluto portare avanti e che noi sosterremo oggi qui al Senato. Ricordando tra l'altro che al Senato il provvedimento arriva oggi per il voto di emendamenti e per il voto dell'Aula per ordine del giorno e finale quando scade il 30. Quindi con il solito denato d'urgenza, la solita impossibilità di modificare, di lavorare in maniera coerente e corretta e di permettere quindi ai parlamentari di portare avanti il loro lavoro. Secondo lei il governo Renzi che cosa vuole ottenere quindi con questo decreto? Il governo Renzi in realtà vuole solo fare una dimostrazione di portare avanti un decreto che ripeto è stato così stralciato della parte del cuore importante ed è già stato, meno questa notizia, riformulato in alto bisogno di legge che vedremo poi nella sostanza cosa produrrà concretamente.